Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per gli abbonati al PlayStation Plus di aprile 2022. Questo mese avremo tre giochi in PS4 di cui uno anche in versione PS5, scaricabili tutti dal 5 aprile 2022. Ma iniziamo subito. Il primo, sia in versione PS4 che in versione PS5, è Hood, Outlaws & Legends, gioco d'azione in PvP con battaglie multigiocatori online ambientati in un mondo medievale. Da provare. Secondo gioco, in versione PS4 e compatibile con PS5, è Slade Spire, roguelike con livelli generati proceduralmente e battaglie contro nemici e boss da affrontare grazie a un gioco di carte da collezione. In ogni livello, infatti, si ottengono sempre nuove carte con cui costruire velocemente una solida strategia di battaglia. Interessante da provare. Infine, come terzo e ultimo titolo PS4 e compatibile con PS5, abbiamo SpongeBob Battle for Bikini Bottom, remake del gioco originale uscito nel 2003 su PS2. Nel gioco dovremo controllare SpongeBob Patrick e Sandy per difendere Bikini Bottom dall'assalto di alcuni robot commandati da Plankton. Da giocare assolutamente. Cosa ne pensai di questi giochi gratuiti per il mese di aprile 2022? Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!